22 dicembre 1917. Muore a Chicago Francesca Saverio Cabrini, religiosa e missionaria italiana, fondatrice della Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850, nel 1889 si trasferisce in America per portare assistenza agli immigrati italiani. Costruisce asili, scuole, convitti per studentesse, orfanotrofi, case di riposo e ospedali. Nel 1946 Francesca Saverio Cabrini viene proclamata santa da Papa Pio XII e nel 1950 diventa patrona degli emigranti.